Ben trovati allenatori e benvenuti nella casa di carte, come sempre io sono Roberto e io sono Jacopo Oggi vi facciamo vedere un po' com'è andata la live di domenica scorsa E' andata Maluccio però con le promo direi che ci siamo assolutamente riempiti la pancia Se non c'erano le promo faceva schifo, quindi abbiamo avuto un bel Abbiamo Umbreon e Dark GX, Espeon e Deoxys GX e poi Eevee GX Qual è la tua preferita? O giustamente, Espeon e Deoxys GX Quindi ragazzi adesso noi vi lasciamo agli spacchettamenti che ci sono stati domenica scorsa Abbiamo utilizzato per la prima volta il nostro tabellone, devo essere sincero E' stata un'idea sfiziosa che ci è piaciuta, quindi lo riutilizzeremo in tutte le live Però può darsi che quello porta sfortuna Può essere che porta sfortuna, vediamo, se nella prossima non troviamo nemmeno niente Lo togliamo, che ne pensi? Cioè è stato inutile metterlo se nella prossima non troviamo niente Vi ricordo anche che martedì scorso è stato caricato il primo video della nostra nuova serie C'è posta per la casa di carte dedicata ai nostri scambi In descrizione trovate tutti i link utili Noi adesso, senza ulteriori indugi, vi lasciamo agli spacchettamenti Ci vediamo dopo Codiciozzo per voi Eccolo Ok, bell'espansione i giochi di squadra E noi non abbiamo fatto molto di gioco, non abbiamo mai spacchettato molto di gioco di squadra Allora, Giustino, questo è il primo pack del nostro Pokémon Caffè Ah, è vero, ho deciso di chiamare Pokémon Caffè, anche se non prendiamo il caffè Perché dopo pranzo si prende il caffè e quindi ho detto Pokémon Caffè Andata Allora T-Chair, guarda, rimani collegato perché per ora sono tutti bloccati Aspetta, guardala Perfetto, riesci a mettere un po' più in qua Ottimo, ottimo, ottimo Energia Medallo Ok Vespera Guarda, Jacopo, non ti attaccare troppo Ok Pupitar Kakuna Geodude di Alola Paras Joltik Blizzle Squiddle Golduk Reverse E un'analisi di Bill Un'analisi di Bill che è fra l'altro identica È rara, almeno È una holo È una holo Quindi si merita No, non se la merita Quindi diciamo che Ma dai Giustino, oggi ci poteva aiutare un po' di più Ragazzi, codicino per voi Oggi ci ho trovato pure due alleati in sintonia mentale Sì, è vero È vero, è vero Allora Codicino Jacopo, mi raccomando perché qua devi essere tu a Dire le carte Ti piace che ti ho messo la stufetta che oggi fa freddo? Ahà 3, 4 Non vedo Non controllo se gratta questo Avete anche Eglissi? C'è Eglissi Cosmica? Sì, sì Sì, c'è Eglissi Dofra, ci sta Eglissi C'era solo uno però Solo uno però c'è Però c'è C'è, c'è Ok ragazzi Cominciamo Energia lotta Jacopo, oggi ci fa Bella questa Bivarell Dawnblade Bravissima Oranguil Questo mi piace Pikachu Pikachu Beedouf Che no, gli è caduta la pera No, quella sai che cos'è? Una baccacedro Cosmog Magmar Bello Magmar Cotony Drill Drillbur Reverse E niente E niente E niente Però ci sono due Raishu che ti salutano contenti No, che bello Quindi Abbi fede Codice per voi ragazzi Gioco di squadra Posso un bacchetto? Aspetta, aspettate Aspettate ragazzi Aspettate Per ora stiamo andando con chi si è prenotato Codice Mamma mia Io la voce perdo così Allora ragazzi Questo è il pack di Luca Quindi Luca Speriamo Bene Allora Oh ma sempre questa? Ma sempre sono tutti uguali i bacchetti Aspetta Ok No, tu hai trovato Energia Metallo Torracat Tenacia di Brock Comunicazione Pokémon Monkey Vulpix Aspetta solo un po' così perché c'è il riverbero Puncham Un giocattolino in mezzo all'erba Con l'erba in bocca Squirtle Oh, oggi è già di Squirtle Clefki Ospitalità di Erika Reverse E uno Zapdos Solo Ma sempre le Olo Oh, però almeno Jacopo sta Ricordiamo che questi due giocatori Che bellina Sono di Jadis ragazzi Io E Non vorrei dire Ma Bene 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 Luca Però questo di qua è veramente una gran carta Proprio bello Ah, se ti prendi tu Eclissi Cosmica Ma il rabbio Bello 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 Codice per voi ragazzi Secondo me Secondo me Ma i pacchetti Secondo me Se li metti tu là Portano sfortuna Questo Creeper X Sa dove Eclissi Cosmica Lo vede Eh, lo vede Allora se c'è ora Creeper X Allora ragazzi Questo è il pack Di Stefano Oh Hai visto qualcosa? No Non è vero Allora Allora È vero C'ha ragione C'è qualcosa Stefano Il tuo pack Oh Come ho fatto a vederti comunque Che c'era qualcosa di brillantissimo Fraxur Eh, perché Perché non riesco a tenerla bene la carta Brillantissimo Brilla più Più di un diamante Basculin No, più di un Sì Più di un Più di un Bunchalax Più di un specchio alla luce Magnemite Fletchling Onyx Fletchender Snower Cottony Reverse Carina E un Itran GX Un Itran GX Oh Finalmente Si comincia a ragionare Finalmente Si comincia a ragionare Grazie al pacchetto di Stefano Quindi Il team Umbreon Passa in vantaggio Team Umbreon In deciso vantaggio Allora ragazzi Così c'è per voi Eclissi Cosmica Eclissi Cosmica Mamma mia Subito Almeno Eclissi Cosmica Allora Quello che volevo aprire Oh grande Dimmi Aspetta Luca Aspetta Aspetta Sì quello che Ti ho detto Questi qua sono i pacchetti Da prenotabili Allora Andiamo avanti Jacopo sta aprendo Il pacco di Tippinabbo Quindi Energia Psico Sciondolo Del giro Delle isole Oh Erika Tutte le salse Oggi Vibrava Pancham Dribble Angela Evie Duskull Ma io ho sempre a che fare con l'acqua Duclette Uno Steelix Olo Dai però Almeno tre Olo Che hai trovato Ti fanno un punto Uno a uno Uno a uno Quindi questo Ciao Megapk Official Benvenuto Megapk Official Due però Olè Posso iscrivermi A cosa Giuseppe Ti vuoi iscrivere? Cosa ti vuoi iscrivere? Al canale? Non c'è Cioè l'iscrizione è gratuita Iscrivi iscriviti Non ci sono abbonamenti Quindi iscriviti Assolutamente Certo Allora ragazzi Questo ricordiamo Il pacco di Leonardo Allora Non vedo niente Non vedo niente vero? Sei pronto? Sei pronto perché Non vedo proprio niente Jacopo Oh scusate Qua si vede il mouse Lo metto qua Quindi ragazzi Questo è il pacco di Leonardo Non vedo proprio Energia Ombra Mi scambiate Zama Zenta Gold? Eh no E se te lo scambio a te Non ce l'abbiamo più noi Rab Zudu 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 Zagondi 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 Munna Io c'avevo un compagno Alle scuole elementari Che di cognome Faceva Munna Zagondi 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 Mamma mia Veramente È questa carta È Roserade Mannaggia Mi aveva fatto illudere No perché ogni carta Praticamente Subrillucci Con il pack Di Rane Rane Questo pack È per te Vai Allora Di là Di là Di là Energia Psico Fossile Sconasciuto Uuuu Questo ci piace Zudu Zudu Cottone Quei tipi follette Sono bellissimi Snorunt Dynamo Meditate Noibat Jinx Reverse Oh Bellatias Che però È una cippa Di olograficità Una gold Addirittura Qualcosa Mi sa che c'è Eccolo qua Qualcosa Mi sa che c'è Allora Uno Due Tre Devo grattare Sì Eh ma queste Non grattano Tanto Però è strana Destino splendente È molto buono Sì l'abbiamo però Finito di spacchettare Però ci sono Se ti interessa qualcosa E scambio Guardaci sotto In descrizione Ci sono I nostri link Allora Energia Acqua Dai Jacopo Su Così Ti alleni Magneton Biderel Biderel Domblade Yangus Yamma Questo è detto bene Mi è piaciuto Exegut Mar Macro Bene Snow Cosmon E un Golisopod Reolo Un Golisopod Olo 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 Bene 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 Quindi questo ragazzi È il pack Che noi Le dichiamo A Matteo Masucci Quindi questo È il tuo pack Vai Jacopo Energia Aspetta Perfetto Acqua Acqua Vigoroth Fossile Sconosciuto Tornavos Dynamo Magari è lo stesso pack Di prima Infatti sì Cobuan Drudigon Shromish Questo oggi Non l'abbiamo trovato Questo no Driflom Noibat Reverse E niente E uno Scrafty Raro Normale Ogni volta che vedo Scrafty Mi viene in mente Futuri campioni Non Almeno Facciamo il trick Non voglio C'è qualcosa? Grattava? Non lo so Non so se grattava Cioè nel senso Qualcosa c'è Qua ci devi trovare Una Gix per vincere Ma secondo me sai perché? Perché Pincerolo Per ora ha aperto Le valvole della fortuna Ha trovato Charizard Ha ritrovato Charizard Quindi questo pacchetto Avendolo dedicato a lui Che cosa? Però non ha senso Perché la dovrebbe avere Savorita la fortuna No figurati Quando si apre la fortuna Va a go go Allora ragazzi E io ce l'ho La fortuna Prego caro Devi Ah energia erba Etmore Suffindica Non lo posso vedere Ipercozione Shellder Sheldon Esatto quello Mi sta Fu da me Kroghurt Yoghurt Si ricopre Mincino Mincino Wolpix No non c'è niente Ah si che c'è qualcosa Meractus Spike Di Blossers Ecco Allora O è una V-Max Se trovi la V-Max Diventi più fortunato di me No E' una Full Art ragazzi E' una Full Art Allora Vedi il tipo Vedi il tipo Sculopincia Allora Vediamo il tipo Vedi il tipo Se è tipo È tipo acqua Secondo me Tipo acqua Tipo lotta Sì guarda Leonardo Moschetta Io ci stavo Ho pensato La stessa identica cosa Se non Peccato che non è Non è Non è stile di lotta È tiramitar È tiramitar Qua si salvata Qua si salvata solo per le prove Mamma mia Pinciarolo Oh Stasera La grande Ovviamente Primo posto La confezione Dove c'era la statuetta Di spada e scudo Decidila Mamma mia ragazzi Mamma mia Che bellezza Finalmente Ben trovati allenatori No ma avete visto Insomma Non è andata benissimo Ho spacchettato solo io Quindi ha vinto Il team Umbreon Questa volta ha vinto Il team Umbreon Grazie al Grazie alla full art Che abbiamo trovato Spada e scudo Se no era una parità Era una parità Adesso ragazzi Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti Noi ci vediamo in live Domenica pomeriggio alle 15 Per spacchettare Che cosa Jacopo? Per spacchettare Stili di lotta Per spacchettare Stili di lotta Finalmente Esatto Vi ricordiamo anche Che noi acquistiamo Tutti i nostri prodotti Pokémon Sul sito Moviemania Nerd Store In descrizione Trovate il nostro Codice sconto E trovate anche Il link diretto Al sito Detto questo Noi vi salutiamo E ci vediamo